che ulteriori inquinamenti, anche rispetto a nuovi impianti che possono sorgere, vengono realizzati. Grazie. La ringrazio. Interrogazione 32161, Noreoli Scotto ed altri, concedente chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella valutazione delle proposte normative riguardanti il progetto Tempa Rossa in relazione al cosiddetto decreto sblocca Italia e alla legge di stabilità per il 2015. Onorevole Serena Pellegrino la illustra per un minuto. Grazie, Presidente. Ministro Galletti, l'inchiesta sul petrolio lucano riguarda sia Tempa Rossa, l'ennesimo episodio di corruzione che ha coinvolto Governo, petrolieri, amministrazioni locali e imprenditori, sia i reati ambientali per le emissioni in atmosfera e lo smaltimento dei rifiuti del centro olio di Vigiano. Fatti gravissimi e inquietanti. Tutto però si è svolto sopra la testa del suo di Castero. Eppure la Commissione che discuteva lo sblocca Italia era quell'ambiente e non certo quell'attività produttiva. Affermo senza timore e dismentita che quanto promosso a forza di emendamenti delle società petrolifere non è in linea con quanto lei ha sempre dichiarato. Lei ha firmato la carta della COP21 di Parigi, dicendo che dobbiamo superare l'utilizzo delle fonti fossili. Oggi, invece, sostiene che Tempa Rossa è strategico. Ma, Ministro, quella era solo propaganda. Ministro, vogliamo sapere quali misure intenda prendere, perché le conseguenze provocate dai composti volatili del greggio riferiti al progetto Tempa Rossa purtroppo non sono promesse, ma una dura realtà per i cittadini lucani. La ringrazio. Ministro dell'Ambiente, tutela del territorio del mare, Gianluca Galletti, risponde. Prego. Grazie, grazie anche all'onorevole Pellegrino che mi dà l'opportunità di chiarire una situazione intricata. È innanzitutto necessario chiarire che la norma in questione, sia nella formulazione individuata nel cosiddetto sblocco Italia, sia poi definita nella legge di stabilità, prevede solo ed esclusivamente una semplificazione amministrativa sul rilascio delle autorizzazioni. Senza incidere minimamente sulle salvaguardie ambientali, anzi, in qualche modo rafforzandole. È il motivo per cui il mio Ministero, quello dell'Ambiente, ha condiviso entrambi le stesure. In particolare, nel caso della norma contenuta in legge di stabilità, il Ministero ha espresso formalmente, per lettera del mio ufficio legislativo, un parere favorevole, come risulta dagli atti. Va sottolineato, infatti, che la norma si limita a spostare una competenza autorizzatoria, affidandolo allo Stato, centralizzandolo. Non determina, dunque, alcuna incisione di interessi ambientali. Anzi, si fanno espressamente salvo le vigilazioni.